Siamo con il Presidente dell'Ater Bruno Prestagiovanni e viste le vicende regionali siamo in una fase di consuntivo. Lei non è molto che ha assunto la responsabilità dell'Ater. Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Ecco, se la sente di formulare una sorta di consuntivo su quella che è stata l'attività di questo anno e mezzo? Diciamo che quest'anno e mezzo è stato un lavoro improbo ma sotto certi aspetti anche gratificante. Nel senso che finalmente siamo riusciti a rendere, non dico definitivamente, ma molto operativi i nostri servizi informatici, che chi ne dica il nostro comune amico Ivano Selli, che ci consentono di avere una visione dello stato dell'arte, del nostro patrimonio molto vicina alla verità. Abbiamo instaurato stretti rapporti con l'amministrazione comunale sulla verifica dei dati anagrafici, abbiamo instaurato stretti rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi. E questo ci consente di svolgere un'azione sempre più pressante e pregnante nei confronti dell'utenza, soprattutto quell'utenza, tra virgolette, irregolare, che non posso definire abusiva, e sul recupero delle morosità. Un'azione che è stata intrapresa grazie all'operato di nostri funzionari e questa dovrà essere supportata e incentivata ancora di più da un'azione sempre più pressante dell'Avvocatore. In queste ore stiamo lavorando sugli indirizzi strategici per il 2013 e puntiamo molto su questo. Quindi controlli e procedure sempre più stringenti che vadano nel senso non di vessare l'utenza, ma di controllare la gestione del nostro patrimonio al meglio e quindi anche l'utilizzo. Senta, ci sono due fasi estremamente importanti per quanto riguarda l'edilizia pubblica nella storia del nostro Paese, il piano Fanfani e la 457, il piano decennale per la casa. Appunto dalla data del piano decennale del 78 ci sono stati decenni di silenzio assoluto, in nessuna finanziaria si sono trovati finanziamenti destinati all'edilizia pubblica. Nel frattempo la crisi sta, come dire, aggrovigliando anche i ceti medi e da uomo politico, ancor più che da presidente dell'Ater, non crede che la politica dovrebbe manifestare un interesse più attento e diverso rispetto a questo problema? Allora, consentetemi attraverso voi di fare, come direbbero quelli che parlano bene, outing e rivedere un pochino le mie posizioni da soggetto politico su tutto quello che è la gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. Io avevo un'idea completamente diversa sull'edilizia residenziale pubblica e sulle Ater rispetto a quella che ho maturato oggi dopo questo anno e mezzo di permanenza all'interno dell'azienda. Perché credo che la politica farebbe bene, e questo con molto senso critico nei miei confronti, farebbe bene a confrontarsi di media più pressante con le realtà che vivono questo problema. E direi che forse è stata rappresentata oggi la gestione del patrimonio ERP e tutto quello che riguarda l'edilizia sovvenzionata rappresenta un fallimento da parte della politica. Uno dei primi esempi di federalismo è avvenuto grazie alla modifica del titolo quinto della Costituzione, proprio in questo settore dove la competenza è stata data alle regioni. Regioni che però vivono una serie di emergenze dove spesso e volentieri il problema abitazione o abitativo viene il secondo se non terzo piano rispetto alla sanità, rispetto ai trasporti. Poi forse dopo viene il problema della casa. Risorse pubbliche sempre più esigue, perché si ricordava prima il piano Fanfani, io credo che non ci sia stata più nessuna fonte di finanziamento vera dopo la soppressione dei fondi Gescal. E le regioni non possono, non vogliono, non hanno la possibilità di mettere a disposizione somme ingenti per nuovi piani di edilizia residenziale pubblica. Allora le sorti, il futuro delle famiglie colpite da queste famiglie, parliamo di cedi sociali più deboli, colpite da questo problema forse cadono nel dimenticatoio, perché sulla spinta di un mondo imprenditoriale sempre più preoccupato delle sue sorti, le regioni tutte, non è assolutamente un atto di accusa nei confronti della regione Lazio, questa ma è una considerazione a tutto tondo conoscendo anche un minimo a livello nazionale, si stanno muovendo tutte quante su un fronte nuovo, quello del cosiddetto housing sociale, quello che serve per dare le risposte a quel cedo grigio, coloro che hanno un reddito troppo alto rispetto al reddito d'accesso dell'ERP e però non riescono a accedere al mondo del credito. Ma spesso e volentieri, dietro la spinta alla ricerca di nuovi spazi per housing sociali, si nascondono interessi dei costruttori, a Roma li chiameremmo palazzinari che intendono in qualche modo speculari. Forse c'è da rivedere tutto questo, stabilendo linee di finanziamento certe, ma quando dico linee di finanziamento certe, anche con tempistiche di erogazione certe, perché mai la finanza pubblica è in profonda crisi. Le nuove norme che il governo Monti tra l'altro sta per attuare, danno la responsabilità degli amministratori di qualsiasi attività che venga posta in essere, penso a legare, in assenza della certezza del finanziamento e questo porterà, mi avviso, a una paralisi del settore. Allora su questo forse la politica farebbe bene a fare un minimo di autocritica e rivedere un po' tutte le normative. Avviando un rapporto serio con gli enti di riduzione di silenziale pubblica, si chiamano ATER, si chiamano gli ACP, si chiamano come volete voi, e qui apro una piccola parentesi, anche il fatto che a livello nazionale ogni azienda abbia un nome diverso complica un pochino la questione, per dare una risposta sociale, risposta sociale che deve passare anche attraverso la rivisitazione della natura giuridica degli enti. Su questo torniamo subito dopo. Lei ha fatto un'affermazione che io condivido, nel senso che la politica nazionale ha dimenticato questo settore e l'ha lasciato alle regioni. La regione Lazio, anche con la consigliatura che sta andando alla chiusura, ha stanziato una serie di finanziamenti, almeno si dice l'ha messi a bilancio, 100 milioni l'anno, eccetera. Di famosi 10 milioni l'anno per 10 anni. 100 milioni l'anno per 10 anni. 100 milioni l'anno per 10 anni. Ho spostato, ho anagrammato. Ecco, però nel momento in cui questi quattrini esistono non ci stanno le aree. Il piano casa che doveva essere, come dire, di aiuto, di sostegno nelle procedure, nell'acquisizione, nella riappropriarsi delle aree da parte dell'ATER, doveva essere l'elemento, come dire, nuovo, ecco, a che punto siamo nei rapporti col Comune di Roma, proprio nell'applicazione del piano casa? Nell'applicazione del piano casa siamo a buon punto. C'è stata una riunione la settimana scorsa sulle densificazioni, abbiamo un nuovo incontro venerdì mattina, sempre con il Comune di Roma, per individuare, o meglio, sbloccare vecchie convenzioni giacenti nel cassetto del Comune di Roma, ormai da tempo, per rimetterlo a posto e procedere da una parte all'alienazione del patrimonio immobiliare su richiesta dell'utenza e dall'altra procedere alle densificazioni. Però credo che il problema sia un altro. Il problema non è tanto quello delle aree. Aree oggi non sono tantissime, ci sono, a noi quello che manca è la certezza del finanziamento. Le delibere di giunta regionale che stanziano fondi, vedono l'emanazione dell'ordinativo di pagamento da parte della direzione regionale per la casa, poi trovano l'incaglio all'interno dell'assessorato al bilancio che non può liquidare queste somme per liquidità. Cioè lei mi sta dicendo che lo stanziamento c'è ma non ci sono i soldi in cassa. Mancano i soldi in cassa. E la circolare della Corte dei Conti, rafforzata oggi da questa nuova norma che troveremo sulla finanziaria 2013, dove l'amministratore è il responsabile in solito, qualora bandisce che aree di appalto in assenza della certezza del finanziamento complica la vita azienda come questa. Allora ecco perché dicevo prima c'è bisogno della certezza delle linee di finanziamento e della tempistica dei finanziamenti, attraverso quelle quali si può sviluppare una programmazione seria, reale e concreta. Le aree ci sono, stiamo recuperando aree importanti, consentitemi di dire, avevamo già parlato in trasmissione, consentitemi di dire che noi abbiamo avuto anche la soddisfazione di vedere approvate in giunta ai primi di agosto di quest'anno una delibera che spero riesca ad andare all'approvazione del Consiglio Comunale prima della chiusura dell'amministrazione comunale, prima del scendimento del Consiglio Comunale, che è il riconoscimento di una capacità edificatoria di un'area pubblica che era stata cancellata dal piano regolatore della giunta Veltroni. Casal Giudeo? Casal Giudeo. O Casal Giudeo, come si dice. Casal Giudeo. Parliamo di 760-780 mila metri cubi, quindi parliamo di cubature importanti che poi bisognerà stabilire dove far atterrare, come si dice in gerdo. Se l'approvazione di quel diritto edificatorio all'interno del Consiglio Comunale viene accompagnato dall'approvazione della delibera sull'individuazione delle cosiddette aree di riserva, voi vedete che scaturisce un piano di costruzione importante. Però non basta avere le delibere che ci autorizzano la costruzione, bisogna reperire le risorse finanziarie per poter costruire. Come possiamo far questo in un momento di estetizia economica? L'Ater chiaramente si sta attrezzando al meglio. Dove? Cerca di erogare i servizi anche all'esterno della propria utenza per poter tranne un vantaggio economico per poter poi rinvestire. cerchiamo di valorizzare, o meglio vendere a prezzi buoni tutto quello che sono non il patrimonio abitativo ma il patrimonio commerciale per tirarne fuori un reddito che ci consenta di incentivare questo. Però è chiaro che per far questo, parlando di edilizia sovvenzionata, serve un intervento massivo dello Stato piuttosto che della Regione. Mi vorrei soffermare un attimo sulla storia dell'area di Casa Giudeo, perché in un'intervista ultima che ci ha rilasciato il Presidente della Commissione Urbanistica, l'Onorevole Di Cosimo, lui appunto dava l'annuncio della decisione da parte della Giunta di accedere alla Convenzione, alla compensazione, tuttavia aggiungeva che però non c'erano a disposizione le aree di riserva per appunto dare poi all'istituto la possibilità. C'è quel vecchio bando fatto ormai due anni fa, tre anni fa? Ecco, la novità qual è? Che chiedendo la stessa cosa a Morassutta, che è stato l'assessore al piano regolatore, quello che ha fatto il piano regolatore, dice ma com'è possibile aver dato la compensazione a Casa Giudeo quando quella è un'area vincolata e le aree vincolate non possono essere oggetto di compensazione? E in ogni caso, laddove questo fosse possibile, le aree di riserva ci stanno. A che punto è la storia? Chi ha ragione? Non lo so chi ha ragione, ma credo che senza altro Di Cosimo non ha torto, non lo dico per una questione di parte, in quanto ho vissuto in altro ruolo, all'epoca ero consigliere comunale, capogruppo del primo partito dell'opposizione in Campidoglio quando è stato approvato il piano regolatore e Morassutta che all'epoca faceva l'assessore si ricorda benissimo gli interventi in aula, non tanto del sottoscritto che ha svolto il suo lavoro, ma quanto dei colleghi Marsilio, Malcotti, Piso, Iot e tanti altri che chiedevamo lo stesso riconoscimento del diritto di compensatorio che era stato garantito per importanti famiglie di costruttori romani all'azienda per l'edilizia residenziale pubblica. La variante delle certezze aveva già ridotto la cubatura su quell'area, quindi dice una verità parziale, l'odorevole Morassutta, però c'è un diritto edificatorio che all'epoca non è stato sancito e la forza dell'approvazione di quella delibera della parte della giunta comunale nasce da una sentenza del Consiglio di Stato nei confronti di soggetti privati che sempre in quell'area hanno visto e riconosciuto il loro diritto edificatorio. Allora, se si riconosce al privato Rossi, non facciamo nomi così, nessuno se la per andare male, non vedo per quale motivo questo diritto edificatorio non debba essere garantito per l'azienda residenziale pubblica del Comune di Roma. Forse se facessimo i nomi troveremmo la soluzione del perché a uno sia all'altro. No, ma no, non sono in famiglia così. Forse Morassutta fa un po' di confusione, visto che ormai è qualche anno che non si occupa più di Comune di Roma. Allora, tra le tante iniziative proprio per riuscire ad arrivare alla realizzazione di nuove cubature c'è stata anche quella messa in campo dalla sua presidenza, insieme con l'Ordine degli Architetti, la Regione e l'Ace. Nell'applicazione del Piano Casa. Nell'applicazione del Piano Casa della densificazione, quindi l'utilizzo di cubature che sono i vecchi lavatoi, i piani piloti, eccetera, cosa che avete presentato alla Casa dell'Architettura. Ecco, a che punto è il progetto? Allora, siamo predisposto e siamo pronti per firmare la convenzione con l'Ordine degli Architetti e consentitemi attraverso le vostre telecamere di ringraziare soprattutto la consulta dei giovani architetti del Comune di Roma che hanno presentato uno studio predisposto sugli immobili di Vigne Nuove. Lo dico, era soltanto un'ipotesi, uno studio perché Vigne Nuove è un condominio misto dove non è tutta proprietà dell'Ater, cioè nel caso bisognerebbe fare su quegli immobili bisognerebbe fare un accordo con gli altri proprietari, però era un'ipotesi e attraverso questa convenzione l'Ordine degli Architetti si mette a disposizione dandoci un supporto tecnico, quindi lavorando a stretto contatto di gomito con i nostri uffici di progettazione per un'analisi sull'intero patrimonio Ater del Comune di Roma. Quindi io spero di poter firmare questa convenzione entro la fine del mese di ottobre e poter poi partire da gennaio prossimo già con le prime proposte. Questo ci consentirebbe di far cassa perché tutti quei cambi di destinazione d'uso e tutto quell'incremento di cubatura potrebbe essere immesso sul mercato non a prezzi di allenazione alloggi a prezzi di mercato e potrebbe essere anche una risposta al diritto all'abitare che magari ci pervengono dai giovani che frequentano l'università a Roma, potremmo fare accordi con le università per destinare alloggi per i studenti, potremmo fare alloggi per padri separati, potremmo fare tante cose. Anche perché questo avrebbe fatto nel concetto della bioedilizia, quindi una lingua in qualificazione. Efficientamente energetico. Meno territorio usato tra l'altro, che non guasta mai. Agiamo in altezza anziché in espansione. Senta, faceva prima riferimento a una gestione più attenta anche di quelle che sono gli occupanti degli alloggi delle case popolari e in questo senso avete stabilito un'intesa con la Guardia di Finanza che ha portato a un risultato che noi stessi abbiamo pubblicato, quasi di 12.000 dichiarazioni non rispondenti, chiamiamole così. 12.225. Premesso che chi ha dichiarato il falso va in contraspetti penali. Si chiama truffa ai danni dello Stato. E lì sarà la magistratura. Ma ai fini del mantenimento dell'alloggio che succede per queste persone? Per il mantenimento dell'alloggio bisogna vedere se la domenica di dichiarazione è stata una svista. Ci può essere un ravvedimento, altrimenti verranno perseguiti tutti quanti. Il dato che ancora non ho in mano, ma mi è stato anticipato questa settimana, parlato l'altro ieri, dall'ufficiale della Guardia di Finanza che sta conduciendo indagini, sta portando cose eclatanti. Hanno scoperto evasori totali. Allora, quello che io voglio dire è che ormai nell'epoca dell'informatica non si può più giocare e i dati si incrociano molto bene. Ma credo che questo sia un problema di giustizia sociale. Noi dobbiamo garantire il diritto all'abitare a chi ne ha bisogno. Anche perché questo si negatogliano a chi ne ha bisogno. I imprenditori che mascherano i loro redditi per poter vivere a San Sabba piuttosto che a Testaccio forse farebbero meglio cercare sul mercato le loro abitazioni e lasciare l'abitazione che oggi occupano abusivamente a chi ne ha bisogno. Consentitemi su questo argomento però di ricordare il dottor Caperna che quando abbiamo avviato questa indagine, l'accordo con l'Agenzia dell'Entrata abbiamo incontrato e si era messo subito a disposizione. Abbiamo appreso la sua tragica morte improvvisa. Mi fa piacere ricordarlo perché anche lui si è messo a disposizione, anzi ci ha dato utili consigli su come muoverci. Io anzi la ringrazio di questo ricordo. Adesso l'invito e si rimetta un'altra volta la giacca dell'uomo politico perché la domanda che dobbiamo fare è questa. Non c'è la necessità di ripensare quello che è stato fatto con la cancellazione dell'OIACP e la definizione delle altre. Mi spiego meglio. Non sarebbe auspicabile un'unica azienda regionale che governasse tutto il patrimonio pubblico, compreso quello dei comuni e magari anche quello della regione e magari sovraintendesse anche quella che è tutta la governanza della cooperazione e magari con i rapporti anche con i privati. Quindi dannogli effettivamente una spinta che lo rendesse azienda perché sennò è azienda soltanto per pagare l'Ibu, solo per l'agenzia delle entrate. Allora, su questo argomento, quando io prima dicevo faccio outing, il 18 luglio del 2011, mi sono insediato qui da commissario il 14 marzo, quindi fatevi due conti. Dopo quattro mesi avemmo un incontro in Commissione Casa e Regione Lazio e io auspicai una rivisitazione della legge 30 dove già all'epoca sostenevo che la natura giuridica dell'ente così come è congegnata non può più funzionare. Noi siamo un ente pubblico economico, la stessa straguata di immobiliare privata per l'agenzia delle entrate, però siamo un ente pubblico economico che non determina chi va a abitare nella nostra abitazione, non fa le assegnazioni. non determiniamo i canoni di affetto perché determina la legge regionale, non determiniamo i prezzi di vendita, abbiamo soltanto la gestione. Debo dire che questo ha scatenato un dibattito all'interno della Commissione che poi ha predisposto da parte del Presidente Gigli una proposta di legge di modifica della 30 che ahimè è rimasta lì visto che si è sciolto il Consiglio Comunale. Quindi che cosa prevedeva questa proposta di legge? Entrava nel merito di risolvere alcuni problemi di natura gestionale, parlava della regolamentazione del canone concordato che è sempre stato uno degli altri argomenti mai applicato correttamente dalle ATER, tentava di dare una risposta risolutiva alla problematica del rientro dei figli all'interno della abitazione e tutta una serie di problemi gestionali. Però credo che oggi qui il problema sia un altro, sia quello, oltre che della natura giuridica, delle funzioni delle ATER. Ha senso mantenere oggi nel territorio regionale sette aziende che poi dovranno essere ridotte, accorpate, riunificate, questo vedremo dal decreto sullo spending review oppure c'è necessità di rivedere la funzione. Io personalmente l'ho già detto, e su questo magari il mio collega Massimo Cacciotti dell'ATER provincia si arrabbierà perché non è d'accordo su questo, lui ha un'altra visione rispetto alla mia, io ritengo che forse sarebbe meglio andare alla unificazione per realizzare un'agenzia regionale che si ponga sul mercato con funzione di calmieratrice nei confronti del mercato immobiliare, che possa dare risposte in termini di realizzazione di nuovi alloggi e soprattutto possa svolgere una funzione tipo agenzia degli affitti e che possa diventare un interlocutore ufficiale per nome e per conto dell'amministrazione regionale nei confronti dell'utenza e faccia da interfaccia tra l'utenza e tutte quelle proprietà immobiliari che oggi stanno svendendo il patrimonio. Ogni mattina apriamo il giornale e leggiamo dei problemi della vendita del patrimonio, usato un termine esatto, svendita, ma mi è scappato, della vendita del patrimonio Enasarco piuttosto che dell'Impci, dell'Enam. Allora forse faremmo meglio dal punto di vista pubblico a garantire questo con una funzione di accompagno nei confronti dell'utenza anche nei confronti del mondo del credito. Quindi una garanzia regionale per l'accesso al credito che consenta di pagare affitti controllati e calmerati. Credo che il futuro sia questo. E anche quello... però la nostra funzione che è quella della costruzione di nuove logiche da oltre 100 anni e che soprattutto ci consenta di avere affitti a canoni accessibili a chi ne effettivamente bisogna. Su chi ne effettivamente bisogna dobbiamo aprire un'ulteriore parentesi. Ha senso ancora oggi parlare per chi ha reddito zero di canoni a 7,75 euro? Forse faremmo più bella figura a caricarlo come costo sociale questo garantendo queste persone un alloggio verificando il possesso dei requisiti e spalmando questi costi su persone che realmente possono pagare. Allora su questo bisogna aprire un dibattito bisogna studiare nuove formule e credo che sia un po' la sfida che abbiamo per il futuro e soprattutto che il nuovo Consiglio regionale dovrà affrontare. In questo contesto inserirebbe anche chiamiamola così la governance per quanto riguarda e la supervisione per quanto riguarda per esempio tutto il settore della cooperazione che in questi anni forse è stato troppo lasciato alla libida di qualcuno. La supervisione da parte dell'ADR significerebbe una surroga nei confronti dell'amministrazione regionale. Però non la svolge. Questo non lo dico io lo dice lei però ma credo che lo stia dicendo anche qualche inquirente in queste ore. L'ADR o meglio la nuova agenzia regionale comunque questa si chiamerà può svolgere una funzione più che di controllo di supporto tecnico organizzativo sì e forse questo farebbe venire meno tutta una serie di malaffari che si è creato in questi anni su questo settore bisogna sempre riuscire a capire quali sono gli obiettivi che si prefigge e attraverso quali strumenti senza altro il mondo della cooperazione ha svolto e svolge ancora oggi quello sano una funzione importante nel paese forse va regolamentato e accompagnato e questo potrebbe far venire meno la voglia a tanti malfattori di avventurarsi in questo sistema senta l'ultima domanda visto che comunque il suo impegno politico continuerà in organismi elettivi non sappiamo questo chi lo dice la mia malignità l'impegno che vuol prendere con chi ci sta seguendo in questa trasmissione ci leggerà sul nostro giornale vuole essere quello di dire che continuerà da quelle postazioni vista l'esperienza acquisita proprio per arrivare agli obiettivi che ha appena indicato io non è che voglio sfuggire la domanda chi mi conosce sa che io ho iniziato a fare attività politica come amo definirla io a 17 anni nell'associazionismo cattolico senza alcun incarico elettivo prescindendo dai ruoli è chiaro che lo farò che questo per me è stata un'esperienza estremamente positiva faticosa difficile ma estremamente positiva e credo di aver maturato anche alcune idee se arrivo pubblicamente a dire che ho cambiato diametralmente posizione rispetto a quello che ha pensato la consigliere regionale è chiaro è chiaro che quello è un impegno che prendo prescindendo se sarò meno candidato alle elezioni regionali politiche comunali non lo so questa è una decisione che sto maturando insieme a tutti di miei amici se mi consentire anche insieme alla mia famiglia che dopo 30 anni l'attività politica un po' si è stancata ma in genere che fa politica non si stanca lui non si stanca per non ci si stanca però bisogna sempre cercare nuovi stimoli e nuovi obiettivi e l'amarezza che ho in bocca in questo periodo è che non vedo più grossi stimoli perché lo scenario che abbiamo davanti è disastroso sembra di assistere al crollo dell'impero romano dove vediamo in giro macerie malati feriti non vediamo prospettiva invece a me piace sempre cercare una via di uscita alla ricerca del bene comune con questo spirito ce la possiamo fare spero di trovare tante persone che vogliono farlo insieme a me bocca al uvo crepi